Nell'antitesi di guerra e pace si abbracciano simbolicamente i colori delle bandiere di Ucraina e Russia al centro dell'evento che l'Ipsar De Cecco di Pescara ha organizzato questa mattina nell'officina del gusto dell'Istituto Alberghiero ospitando i profughi in fuga della guerra. Dibattiti, letture, interventi sono stati al centro dell'incontro organizzato con lo scopo di promuovere una cultura della pace come spiegato da Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'Istituto De Cecco. Noi, tutta la nostra comunità educante, a cominciare dalle richieste di docenti e di studenti abbiamo voluto esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime di questa catastrofe di proporzioni enormi attraverso la produzione di una sorta di spettacolo, una lettura scenica incentrata sui racconti di scrittori di ieri e sui reporter di oggi abbiamo un po' raccontato il sangue nelle città ucraine con il professor Melchior e con il professor Oliva. Credo che sia particolarmente emblematica la scelta della nostra locandina abbiamo lì due mani, una rappresenta la bandiera ucraina, l'altra la bandiera russa le bandiere sono dei vestigli che molto spesso si trascinano dietro delle storie complicate e spesso cruente e in molti casi le bandiere sono state gli strumenti che hanno reso le popolazioni più inclini a forme di odio verso il nemico di turno. Ebbene noi con l'evento di oggi vogliamo affermare che l'unica bandiera che oggi ha un senso l'unica bandiera essenziale è quella super colorata, la bandiera della pace. Guerra e pace, questi due concetti così diversi, così contrastanti, gli studenti come li accolgono? Gli studenti sentono molto l'insicurezza e l'incertezza di questo momento e la sentono ancora di più perché fa seguito ad una situazione di disagio psicologico che si era già creata in seguito alla pandemia e però si portano sempre di più verso comportamenti di positività e di fiducia quindi il loro atteggiamento non è pessimistico ma è un atteggiamento che porta a costruire, ad impegnarsi. Stiamo realizzando moltissimi laboratori che noi chiamavamo l'anno scorso laboratori di legalità, laboratori di cittadinanza attiva, oggi li stiamo chiamando laboratori di pace. E come tanti istituti scolastici anche l'Ipsar Dececco si prepara ad accogliere tra i propri banchi di scuola studenti ucraini in fuga dall'orrore della guerra come quello che ci racconta la 15enne Dasha di Odessa, attualmente ospite di un hotel di Montesilvano insieme alla mamma Olga e al papà Sargei, entrambi sordomuti. Mi sono svegliato la mattina del 24 alle 5 della mattina, mi ha chiamato la nonna e abbiamo iniziato a prepararsi per andare nel paesino dove stava mia nonna. Abbiamo avuto molta paura perché era tutto inaspettato, non capivamo quello che dovevamo fare. Siamo stati da mia nonna all'incirca per una settimana. La situazione lì stava peggiorando dal giorno in giorno e per questo abbiamo deciso di partire, di lasciare il paese. Abbiamo preso solo pochi vestiti, poche cose, solo il necessario. Noi continuiamo a mantenere il contatto con i nostri parenti da Micolaiv. Siamo molto preoccupati per loro perché bombardano la città in continuazione. Irina, anche lei ucraina, ci aiuta a tradurre e ci dice che Dasha è molto contenta che vengono accolti in un modo così caloroso che è molto emozionata per questo.